Ciao ragazzi, benvenuti su questo secondo episodio di GoyaCastel GoyaCastel Ok ragazzi Sono qua nella bonus room Eeeh Vediamo Ma Non sa perchè Allora Vedete questo quadro strano perchè io lo schiaccio Ecco Si vede così Ma Da fuori si vede diversamente Si vede i due personaggi Poi il generale è un bogeco e Russo e Una Non so chi è Mi matto lo gioco Un seguito di MongecoCastel A quanto Ho capito E lui è una statua Molta Furuca Fridere Molta Eelo Senta piu' che Fai Che Che Sono Vai Strano Vabbè, il povero cibo che non sarà mai consumato. Il pavimento fatto di prosciutto. Di qua. Tu non puoi fattore. Ok, gandar. Bellissimo. Vabbè. E raga. Quasi si era mai dita questa porta. Con Piappolo. Ciao Yonaka! E raga, abbiamo trovato la nostra Youtubers. No, ho trovato la Youtubers. Sicuramente. No, non è vero. Non ho la più palida, vero. Ah raga, certe frasi sono doppiate proprio da lei. Cioè, sono state messe. Però non le ha dette lei. Voi un v'natacce di te, v'natacce di capte, v'natacce di mogeco? A quanto pare raga è di fretta, ha fatto il mio frizzo messo. Vieni a tutti gente! Vabbè. Oh, è chiusa la chiave, chissà come mai. Adesso, vedo il libro sotto, e vabbè, vediamo qualche libro. Che questo mogeco è, che io sento, ehm... Mogeco Castle. E' quel mostro tutto giallo, tutti gli occhi. Cioè, il locuzio di... Mogeco. Quella... Ragazza infernale. Per chi la conosce. Sì. Sì. Certo, ma no. E? Eh? È soffocato per il prosciutto, ma si può. Sì. Beh, bella storia. Sì, questo mi serve adesso. Ok, ora prendo internet. Entendo. E me lo... Poi come si è passata, non lo so, eh. Non chiedetemelo. Sì. 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 Andiamo da lui. E no... E non zè. Beh, non è qua. Oddio. Una lettera. Sì. 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 Chi deve aspettare non ho capito. Sì. Inoltre quel olologio, raga, ricordate quello che c'avevi passato i più avanti. Sì. Sì. Per qualcun altro. Ah, ragazzi. Il monico castle. Io anche ammazzava questi monarco. Però se io sparlo mi ammazzano loro. Ma non lo so, eh. e poi oh faramino drammatica e piano 2 preghiera al dio del prosciutto strada fuzia a strizze verdi che battuta calma calma calmissima no io no non ho mai sentito parlare di paradise paradise sì quello sì vabbè soltanto i finali del primo capitolo e The Miss House e ragazzi vediamo alla prossima volete che muoia subito o no ditemelo ciao alla prossima